nella live che ho fatto ieri su instagram rispetto al tema della donna è emersa una tematica molto interessante che è quella legata al tradimento e al fatto che quando una persona tradisca vuol dire che non c'è più sentimento verso il partner o la partner voi che cosa ne pensate a livello di riscontro clinico quindi per esperienza mia di consultazione quello che emerge nella maggior parte dei casi laddove il tradimento non è seriale quindi reiterato nel tempo molto spesso può diventare un tassello molto importante funzionale per ripristinare un nuovo equilibrio all'interno della coppia e quindi anche un nuovo protocollo delle nuove regole di nuovi compromessi una rottura del copione che è molto spesso indispensabile affinché il rapporto possa rinnovarsi questo qui non vuol dire che necessariamente laddove c'è un tradimento